la poesia deve essere scritta altrettanto bene quanto la prosa la lingua deve essere bella in nessun modo allontanarsi dalla parola detta se non per una cresciuta intensità cioè semplicità non devono esservi parole libresche niente perifrasi niente inversioni deve essere semplice come la prosa di maupassant e dura come quella di stendhal non sono ammesse le interiezioni non le parole che volano via nel nulla ammesso che non si può ad ogni colpo far centro sia almeno questa l'intenzione il ritmo deve avere un significato non può essere una semplice partenza senza presa senza stretta sulle parole il senso niente cliché niente frasi fatte stereotipie giornalistiche il solo modo di sfuggire a questo è la precisione che è il risultato di un'attenzione concentrata a ciò che si sta scrivendo la prova di uno scrittore è la sua capacità di simile concentrazione e la sua facoltà di rimanere concentrato finché non sia arrivato alla fine del suo lavoro siano due versi o 200 oggettività e ancora oggettività ed espressione niente code al posto delle teste niente aggettivi a cavalcioni come putridi muschi fradici niente niente che non si possa in qualche momento nella stretta di qualche emozione effettivamente dire ogni letterarismo ogni parola libresca sgretola via un pezzetto della pazienza del lettore un po del suo sentimento della vostra sincerità quando uno sente pensa veramente e gli balbetta le parole più semplici la lingua è fatta di cose concrete espressioni generiche in termini non concreti sono pigrizia sono conversazione non creazione il solo aggettivo che valga la pena di usare è l'aggettivo essenziale al senso del passaggio mai l'aggettivo decorativo poesia è l'arte di caricare ogni parola del suo massimo significato Ezra Pound tradotto da Cristina Campo